Un'altra tappa che arricchisce questo nostro percorso di confronto, di ascolto, anche di spiegare qual è la nostra idea di sviluppo della città, anche del quartiere Junji, un quartiere popoloso, importante, che deve diventare una nuova centralità. L'abbiamo fatto grazie anche attraverso il piano e quindi a una nuova entrata veramente su Scigli. Stiamo continuando anche con i servizi che Junji merita. Adesso in questo tappa, in questo percorso, ci ha raggiunto il sindaco di Ferla, Michelangelo Gian Siracusa. Da sempre ci siamo non solo ispirati ma molto confrontati perché c'è bisogno di fare squadra, di collaborare insieme e di inseguire quelle buone prassi che rendono l'ente e il comune non solo più vicino ai cittadini ma anche innovativo e sostenibile da un punto di vista ambientale. E mi siamo potuta confrontare anche su un punto importante del nostro programma che è il piano sull'uguaglianza che una volta eletti faremo insieme a tutta la città. Siamo qui insieme anche ad altri consiglieri comunali del comune di Ferla perché convintamente sosteniamo Caterina anche se a distanza. L'amicizia e questo confronto affonda le radici nel tempo perché ci conosciamo da diversi anni, ci siamo confrontati rispetto al movimento Stati Scicli al nostro movimento civico anni fa. Caterina è diventata amministratrice, io sono diventato sindaco ci siamo confrontati anche nelle sedi istituzionali e sono felice di essere qui perché credo che Caterina abbia tutte le caratteristiche per essere un ottimo sindaco per Scicli. Coraggio, competenza, costanza nell'impegno sono le caratteristiche di Caterina quindi 3C abbiamo e se aggiungiamo la quarta è proprio Caterina e quindi questo è un invito al voto e a sostenere questo progetto di cambiamento per la città di Scicli, ne ha bisogno il sud-est, ne ha bisogno Scicli.